Siamo al Loop di Perugia per la prima serata del Mercoledì Rock. Ospiti Luca e Andrea dei Godzilla. Ciao. Ciao. La prima domanda ad obbligo, come nasce il gruppo e perché questo nome? Rispondiamo al 50%, visto che siamo in due. Nasce gennaio 2012, che è un anno importante. Iniziamo a gennaio facendo un po' di prove in stile blues, proprio classico, quello che all'inizio ci potevano accumulare un po' ai Black Keys, cosa che sostanzialmente non ci sentiamo di essere simili perché non ci pensiamo mai quando componiamo. e suoniamo nella sala prove a Firenze, a Firenze Sud, con i Vickers, che è una band a voi conosciuta perché tre venerdì fa hanno fatto apertura all'Urban, sempre qui a Perugia. Tra l'altro mi hanno detto una bellissima situazione, quindi siamo carichi per poterli spalleggiare questo primo mercoledì. e da qui, insomma, da gennaio in giù, con l'appoggio e l'uscita del nostro primo singolo, I'm Bleeding, che potete trovare su YouTube, siamo iniziati a girare e quindi speriamo di poter emergere, come si suol dire. Invece per quanto riguarda la nascita del nome, passo il microfono a Andrea. Ma il nome venivo fuori, praticamente ero sotto la doccia, quando mi è venuto in mente fuori, poi sono sempre stato un grande appassionato dei film di Godzilla in generale, molto belli, quindi ci pensai. La maglietta conferma. La maglietta conferma, anche se questo sono due e quello più brutto che hanno fatto, però degli altri film non ho trovato le magliette. Ho capito, ho capito. Come hai detto prima, è uscito il vostro primo EP dal titolo, appunto, Godzilla EP. Appunto, parlateci brevemente, anche la durata è abbastanza breve, ho visto 16 minuti circa, parlateci di questo EP, com'è nato? Beh, innanzitutto abbiamo registrato in maniera un po' inaspettata, nel senso, abbiamo tanta voglia di suonare, avevamo tanta voglia di suonare perché siamo venuti da esperienze un po' turbolente, del tipo, io sono stato fermo un anno e mezzo, ho suonato una band beat, della quale ho buoni ricordi, però non è il mio genere di musica preferito, Andrea aveva la stessa band, sempre lo stesso nome Godzilla, che però facevano sostanzialmente cover di pezzi classici da Nuggets, in giù anni 60, 60's. Abbiamo registrato questi sei brani, sono stati i primi sei che sono venuti fuori, tra l'altro uno di questi è nato il giorno prima delle registrazioni. Siamo molto fiere del nostro lavoro perché alla fine è stata una bella faticata, siamo contenti di essere riusciti a fare un prodotto che sta piacendo. Ringraziamo i ragazzi tra l'altro di Santa Valvola, che ci hanno permesso di uscire con loro, è un'etichetta di Prato, che però propone molte cose interessanti, tra gli altri Mamdrinks Milk Again, e Tops The Grid, di quali si interesse parlare sicuramente. Abbiamo in progetto di registrare un album, tra l'altro di lunga durata, perché questo qui è l'EP classico, abbiamo registrato solo sei tracce, perché prendiamo un po' spunto dallo stile USA di registrazione. Prima uscire con un EP, nel quale poi testare un po' quello che è la reazione del pubblico, e poi uscire con un album di lunga durata. Penso che registrare un album, però in Italia ti spingono a fare, alla prima uscita registrare un album di 30 minuti, quindi 10, 11, 12 tracce, sia un po' un bel rischio, perché poi se non piaci non hai modo di correggerti. Te che ne pensi? Ma io appena sono d'accordo con tutto quello che ha detto lui. Come non essere d'accordo? Infatti sei stata abbastanza ampia. Però noi alla fine abbiamo deciso di fare sei pezzi, perché alla fine sei pezzi tanto per un gruppo emergente, e ora era inutile fare di più, perché magari uno diceva che è troppo. Magari risultava anche palloso, quindi andava bene anche fare solo sei tracce, potenti. Meglio poca quantità, ma tanta qualità. Tanta qualità, assolutamente sì. Una domanda che volevo fare prima a te, Andrea, poi a Luca. Se dovessi scegliere un pezzo a cui più sei affezionato all'interno dell'EP, quale è per che? Ma guarda, senza dubbio I'm Leading è il nostro singolo, perché è stato anche il primo pezzo, e alla fine è uscito, è uscito praticamente subito. Cioè, si è fatto la prima volta, c'è qualche aggiustamento dopo, ma è un pezzo che alla fine, se suonavo ormai tante volte, anche però rimane sempre, a me piace sempre tantissimo, ed è un pezzo che io mi sento ancora di dire che è ancora bello, a me piace, quindi si è prestato il pezzo. Ok, Luca? Per quanto mi riguarda, sì, anche I'm Leading è quello che ci ha un po' lanciato, perché parlando anche con i ragazzi che ci hanno prodotto, con le etichette con le quali stiamo parlando anche all'estero, perché è importante esportare qualcosa, noi moriamo ovviamente principalmente a un mercato estero, perché il mercato in Italia è saturo, e soprattutto preferisce altri generi di musica. è una scelta anche logica, se vende più il pop, se vende più un rock più commerciale, è giusto che sia così. Tra l'altro abbiamo fatto apertura di Bud Spence e Blues Explosion, a me piacciono, però come potete vedere, loro hanno fatto il loro esordio, hanno fatto il successo facendo un album più commerciale, musica cantata in italiano, sound blues, e ora, quando abbiamo suonato insieme, ho notato, perché non li ascoltavo live da un bel po', ho notato che stanno tirando fuori quello che magari è la loro vera vena, ovvero un blues più sparato, con molti riffs, molto cattivo, molto solista anche, e quindi mi viene a pensare che loro sono un po' scesi a compromessi, ovviamente bisogna dire le cose come stando, io non volevo scendere a compromessi, neanche Andrea ovviamente, abbiamo fatto il genere che ci piace, se posso citare la band, la quale più teniamo a cuore, più che un pezzo, sono i Night Beats, è una band in cui faremo apertura in Germania, che nasce da lì l'ispirazione a una band, che sta facendo le ossa ora in America, a prendere Black Angels, i Black Clips, Wooden Ship, anche la t-shirt, e loro sono nati proprio in questa maniera, fregandosene di quello che gira in America, iniziando a fare un rock di derivazione appunto 60s, che però sta avendo successo, e secondo me è così, uno dovrebbe cercare di, anche in Italia, mirare al successo, tra virgolette, o comunque a un'esportazione della propria musica, prima facendo ciò che gli piace, poi dopo scendendo a compromessi, però purtroppo noto che il mercato è così, non è cambiato, anche nel 2006 avevo una band che giravamo un po', però è sempre a questa situazione, vedi chi ti propone perché non cantate italiano, sempre le solite cavolate, le solite banali, però bisogna dire perché sono quelle, ci battiamo. Certo, certo, un'altra domanda, appunto hai parlato di Germania, voi sarete in tour in tutta Italia, anche all'estero, giusto? Sì, e ora partiremo, facciamo cinque date, grazie a due nostri amici, uno di Londra, di una band, un trio molto potente, si chiama Melody Nelson, e un altro ragazzo, di un scozzese, di Dundee, che ha un locale, si chiama Dagause, e lui, grazie a lui, siamo riusciti a mettere su questo tour, tra l'altro, grazie a Dio pagato, ci ripaghiamo le spese, di cinque date, in Inghilterra, Regno Unito, e poi andremo in Germania, per una decina di date, Germania e Danimarca, perché siamo stati presi da un booking danese, si chiama Get Your Rest to Mars, e poi a gennaio faremo altre 16 date in Francia, insomma, un po' di cose in ponte, come ti ho detto, stiamo puntando soprattutto sull'estero, dove abbiamo buoni riscontri, nonostante le poche cose per ora pubblicate, siamo contenti, non lo dico in maniera, come fosse un vanto, lo dico soprattutto perché, io personalmente, ho vissuto periodi di frustrazione musicale, altissima, non riuscendo mai a proporre ciò che... Diciamo che si stanno creando le basi, appunto per avere un buon futuro dal punto di vista musicale, decisamente. Infatti i progetti futuri? Progetti futuri, sì, registrazione di un album di lunga durata, lunga durata, si intende ovviamente 30 minuti, pubblicazione di un vinile, quindi un LP proprio, classico, e poi cercare di andare all'estero il più possibile, e comunque vorrei spezzare una mini lancia a favore anche delle scene italiane a garage, che non è molto, non se ne parla troppo, però ci sono tanti locali che portano band, anche che poi sono diventate famose, emergenti, a prezzo basso, siamo stati a suonare a Teramo, all'Aquila, pubblico veramente fantastico, qui immagino sia la stessa situazione, e ricordo il nostro amico di, anche a Frosinove, sì, abbiamo incontrato per ora gente interessante, interessata alla nostra musica, vorrei ricordare un ragazzo che si chiama Araldo, che ha un club a Rezzo, che si chiama, lo Spectre, nel quale abbiamo suonato la nostra seconda serata live di sempre, e lui portò nel 2004-2005 i Black Clips a 100 euro a Firenze, loro li ho incontrati a Padova, mi hanno detto sì, ci ricordiamo benissimo della nostra serata a Firenze, fantastica, insomma, loro sono venuti a 100 euro anni fa, e ancora si ricordano di risolta piacevolmente, mentre molti altri club magari non erano neanche interessati. Ok, faccio un'ultima domanda, noi nasciamo con le Web Radio, qual è il vostro pensiero sulle Web Radio come fenomeno di comunicazione in Italia? Beh, smizziamo la domanda anche qui, le Web Radio, io lavoro, lavoro ovviamente come volontario anche io a Web Radio a Prato si chiama Radio Gas, quindi è una forma di comunicazione libera, la forse la più libera che c'è adesso come ora in Italia, perché ovviamente le Web Radio se non sono strettamente legate a una pubblicità che deve avere un rientro monetario, permettono una libertà di programmazione totale, quindi è interessantissimo perché tu puoi proporre e farti sentire dagli altri in qualsiasi tipologia di racconto, musica, qualsiasi cosa tu vuoi esportare ed è importante anche la Web Radio perché la puoi sentire da Chicago, in Giappone o dalle Filippine dalle quali viene Andrea. Sì, la Web Radio, come ha detto Luca, è un fenomeno e è buono di per sé perché secondo me non c'è troppo il mainstream che ti propongono nella radioclassica e cerco anche un modo di mettere musica, ascoltare la musica un po' più libero che dà anche molto più spazio alle band emergenti che sono tantissimi in Italia, gente bravissima come Wide Ips di Teramo che saluto tra l'altro che sono nostri grandi amici e appunto e quindi basta. Aspetta, sì, no, senza di carissimi. Lui più o meno ha detto tutto quello. Sì, sì, assolutamente, perfetto, noi vi ringraziamo, volete fare un saluto ai nostri videoascoltatori? Sì, faccio con questo microfono, sì, ciao a tutti i ragazzi di Perugia, grazie mille per averci ospitato a voi e speriamo che i presenti stasera si divertiranno nel caso ci vediamo stasera o ci vediamo su internet cercatevi go.escalamativozilla Un saluto agli amici di Perugia che verranno stasera e a tutti quelli i nostri fan di Facebook che ci seguono sempre e ci scrivono grazie a tutti i ragazzi di Perugia e a tutti i ragazzi di Perugia